Primo giorno di lavoro per la Juventus in vista della stagione 2023-2024 e fra i primi ad arrivare al J Medical Center c'è Francesco Magnanelli, nuovo componente dello staff tecnico di Mister Massimiliano Allegri al posto di Paolo Bianco. Classe 1984, nata a Umberti e demacresciuta a Città di Castello, precisamente nella frazione Badiali, Magnanelli muove i primi passi con la palla nella scuola Calcio Tiferno 90, oggi diventata Junior Tiferno sotto la guida di Dante Selvi. Quindi l'approdo a Gubbio, dove ad appena 16 anni diviene beniamino dei tifosi quando il 9 settembre 2001 nel derby del Luzzi contro il Gualdo, a 15 minuti dalla fine, firma l'assist del decisivo 2-1 per il gol di Clementi, in un'annata in cui il Gubbio sfiorò l'approdo ai play-off. E per Magnanelli, che mise all'attivo 15 gettoni, fu una vetrina verso il salto al Chievo Verona. Magnanelli però non scenderà mai in campo con i Clivenzi, passando alla Fiorentina che lo dirotta alla San Giovannese di Sarri in C1. Qui però arriva il Sassuolo ed inizia l'epopea epica del centrocampista Tifernate. 17 anni e 520 partite nel club emiliano con tre campionati vinti, dalla C2 all'Europa League, passando per nove stagioni di Serie A, divenendo in breve tempo capitano e bandiera nero-verde. Quindi lo scorso anno, dopo aver annunciato il ritiro dal calcio giocato, Magnanelli entra a far parte dello staff di Alessio Dionisi. Il preludio dell'avvento in bianco-nero fu richiesta di Allegri, che lo aveva avuto alle proprie dipendenze nella stagione 2007-2008, quella della prima promozione in Serie B della società emiliana. Nel 2021 Magnanelli è tornato prima a Gubbio, ospite della scuola calcio Fontanelle, nell'impianto sportivo Marco Minelli, e poi nella sua città di Castello, dove ha ricevuto una targa in comune per le sue 500 presenze nel Sassuolo, nell'anno delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Raffaello. E sempre a Città di Castello, nell'impianto dell'Achille Baldinelli, Magnanelli è tornato la scorsa estate per festeggiare i 30 anni di una fantastica carriera. Così, oggi, l'attuale presidente dello junior, Lorenzo Pieracci, assieme al sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, e all'assessore allo sport, Riccardo Carletti, celebrano appieno l'approdo di un Tifernate Doc in una delle società calcistiche più importanti sia in Italia che nel mondo.